E' caos totale in Cosa d'Avorio. Laurent Gbagbo non cede nonostante le pressioni della comunità internazionale e la Presidente uscente non intende lasciare il potere ad Alassane Ouattara, vincitore delle elezioni di novembre. Sono dove gli ivoriani mi hanno messo, ha dichiarato Gbagbo in un discorso alla nazione. Non intendo andarmene perché il mio rivale non ha vinto. I voti lo danno per sconfitto. Mi rivolgo a tutti coloro che stanno con lui nel quartier generale al Golf Hotel e tornate a casa. Rappresentanti dell'ONU hanno intanto già minacciato un procedimento per violazione dei diritti umani mentre lunedì i membri della comunità economica dell'Africa occidentale dovrebbero incontrare di nuovo Gbagbo per scongiurare una guerra civile e nuove violenze. Dalle elezioni di novembre nel paese ci sono già stati circa 170 morti.